Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Oggi siamo qua con un video del tutto mi aspettavo Perché non si pensava che per voi ieri venisse rilasciato l'annuncio del nuovo evento Apple Unleashed, che non so cosa voglio dire Quindi non mi proporrò tante teorie sui nomi Perché tanto farei solo figuri di merda Però non direi di perderci tanto in chiacchiere e di cominciare subito Analizzando la locandina possiamo notare due cose intanto Questi fasci che possono ricordare o il 5G Che come simboli, come questi fasci sono stati usati molto similmente anche l'anno scorso nella presentazione iPhone 12 Quindi fa pensare il 5G che prima verrà su noi MacBook O su iPad Air come abbiamo avuto su iPad Mini e iPad Pro Oppure iPhone SE di terza generazione Di cui si parla negli ultimi giorni Quindi è possibile Se non mi ricorda molto anche questo che salva schermo qua Di Mac OS Chiamato Deriva Che come vedete io uso sempre di persona Molto comodo, molto bello Ma non sono qui per parlarvene Quindi parliamo un po' di prodotti Perché è quello che a voi interessa principalmente MacBook Pro da 16 e da 14 pollici Con chip M1X Nini LED Nuovo schermo soprattutto per il 13 pollici Che appunto passa ai 14 Ritorno dei pasti funzioni Con conseguente abbandono A parer mio purtroppo della Touch Bar Figlia di rivoluzione fallite Come detto nel podcast di iPhone Italia Di qualche settimana fa E ritornano delle porte Come quella per le SD E un nuovo MagSafe Ditemi voi cosa ne pensate Io mi trovo bene con le due USB-C Perché alla fine per la carica è universale L'unico prodotto Apple che per la carica dico Ah sì Ma io per le porte alla fine per i video uso AirDrop Poi ci sono gli adattatori che Secondo me va benissimo così Cioè raga c'è il jack C'è il jack C'è il jack Io li prenderò sempre per il culo Però il jack Apple mi dispiace Cioè ne è arrivato tutto tipo E beh da ottici anni che dal Mac Boh Però questi MacBook A me piace tanto questo design qua E dovrebbe andarsene Dovrebbe diventare più Pan Più iPhone 12 style E a me mi piacciono le due USB-C così E soprattutto mi piace il design così Con questi bordi anche un po' più grossi E la Touch Bar Mi piace molto Quindi non lo abbandono molto volentieri Poi Altre aspettative abbastanza alte Abbiamo iPad Air 5 con Quindi Bionic Qualche nuovo colore Qualche nuove funzioni Sarà un po' Un iPad Air 4 Beh se per Alla fine avvicinarsi magari Con il prossimo anno Un altro iPad Air 6 E poi farò uscire Nel 2020 Sarà arrivare a questo iPad Air 7 Che sarà presentato in due versioni Quindi iPad Air normale Di settima generazione E iPad Mini Che diventerà iPad Air Quindi io me li vedo Perché alla fine sono sempre lo stesso prodotto Quindi Un'unica cosa E c'hai meno cose sul sito Molto più minimal Apple Style E poi abbiamo questo Che mi ispira particolarmente Nuovo iPhone SE Con non si sa 14 o 15 Si pensa E anche lui con il 5G Qualche nuova chicca funzionale Design dovrebbe rimanere lo stesso Di iPhone 8 Da 4.7 Un po' rompiballe Però nuovi colori pastello In stile prodotto basic Apple Come stanno facendo ora Poi dovremmo vedere AirPods 3 Con nuovo design Batteria migliorata E con chip 1 Nel case Cosa molto interessante Che lo renderebbe Praticamente uguale A AirTag Comodissimo Assolutamente E dovrebbero annunciare L'arrivo di Fitness Plus In Italia Quindi quando arriverà Perché ora si può vedere Ma non si può avere E penso che verrà attivato Poi da venerdì Quando arriveranno I primi Apple Watch 7 E un pod mini in Italia Che è Alexa Addios Ah no Stai a dire Me l'ho dimenticato E Prodotti Che non dovremmo vedere Airpods Pro 2 No Perché Che si dice John Prosser Ha detto Pim 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 Airpods Pro 2 Anno prossimo Primavera Che dovrebbero essere presentati Insieme ai nuovi MacBook Air Magari In altre presentazioni Ma comunque Anche i MacBook Air Non lo veremo qua Anche lui dovrebbe essere Presentato In primavera E neanche nuovi iMac iMac Pro Nulla di tutto ciò Allora se dovremmo vedere Uno a Mac Mini Potenziato Ma anche lui Lo vedo molto in forse Queste sono le mie Principali idee Dimmi voi cosa ne pensate Cosa vorreste vedere Scrivetelo qua sotto Nei commenti E Arriveranno Sicuramente Altri video Soprattutto sui MacBook I prossimi giorni Vi parlerò anche di lui E vi farò poi Quando sarà uscito Il confronto Fra lui E quello nuovo E noi ci rivediamo In un prossimo video Lasciate like Per la cerca Registrato Un'ora dopo Dell'annuncio dell'evento Fantastico Sono fantastico Lasciate like Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti